Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu lo sai come me, iscriviti al canale e attiva la campanella, ti darò due motivi alla fine per farlo allora oggi ti parlo di Moto Guzzi 850 T3 del 1975 il nome della moto deriva da due fattori, dalla T che sta per turismo, quindi moto di tipo turistico e 3 perché è dotata di tre freni a disco, mentre chi l'ha preceduto, cioè la T, era dotata di un impianto a tamburi ma appunto nell'epoca della modernizzazione, quindi quando Alejandro De Tommaso prende le redini del gruppo viene proprio chiesto di modernizzare le moto e questo è sicuramente un passo importante per quanto riguarda la modernizzazione della Moto Guzzi la moto poi rimane in produzione fino a 1984, ma vediamola qui in questa bella immagine d'epoca quindi si tratta di un classico motore, quattro tempi, con una cilindrata di 844 cm3 due cilindri a V naturalmente di 90 gradi, due valvole per cilindro, raffreddamento ad aria cioè il tipico motore che è stato sviluppato poi nel tempo da Moto Guzzi la potenza massima di 59 cavalli 6800 giro al minuto, la trasmissione finale naturalmente ad albero cardanico vedete anche caratterizzata la moto da un ampio sellone proprio in ottica turistica il telaio poi in tubi d'acciaio a doppia culla, la sospensione anteriore formata da una forcella tradizionale mentre al posteriore è presente il forcellone con al suo interno l'albero di trasmissione nella parte destra e due ammortizzatori idraulici parliamo quindi del freno anteriore e in particolare della frenatura che è particolare perché all'anteriore abbiamo anzitutto un doppio disco da 300 mm in questa versione appunto al posteriore un disco singolo da 242 mm però la frenatura è formata da un sistema di frenatura integrale che ripartisce la frenata al 70% all'anteriore e al 30% sulla ruota posteriore quindi frenando con il freno posteriore sul lato destro noi andiamo ad attivare sia il freno posteriore ma anche quello anteriore poi con la leva al manubrio si può azionare anche il secondo disco anteriore quindi questo sistema consente appunto di fatto di frenare solo con il freno posteriore aggiungendo poi forza frenante quindi col pedale per capirci aggiungendo forza frenante e modulando la forza frenante eventualmente con la mano sinistra con appunto l'utilizzo della leva al manubrio le ruote sono da 18 pollici la capacità è naturalmente a raggi come si vede nell'immagine anche se successivamente verranno poi montate le ruote in lega leggera dicevo la capacità del serbatoio è di 24 litri quindi piuttosto abbondante il peso secco di 211 kg la velocità massima è di 182 km orari bene se ti è piaciuto quindi metti un like se non ti è piaciuto un dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella prima perché è gratis secondo perché faccio un video al giorno così sei sempre aggiornato qui sotto poi i tuoi contenuti saranno sempre molto graditi ciao e buona serata